Omicidio nella notte a San Giovanni Rotondo, la vittima è un pregiudicato 35enne raggiunto da almeno due colpi di arma da fuoco. A Bari e Taranto al via i congressi di Fratelli d'Italia, tema caldo, le elezioni europee ed anche quelle comunali nel capoluogo di regione e la situazione politica in quello ionico. 20 anni di interazioni virtuali tramite pc e smartphone li compie la piattaforma Facebook che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Il G interregionale di Antena Sud edizione della sera in apertura, l'avete sentito nei titoli, quanto accaduto a San Giovanni Rotondo, vittima un pregiudicato 35enne raggiunto da almeno due colpi di arma da fuoco. L'assassino peraltro sarebbe stato già individuato, ci dice di più Antonella Davola. Prima una lite all'interno di un appartamento del secondo piano del condominio di via Paolo VI alla periferia di San Giovanni Rotondo, poi gli spari almeno due, una breve fuga verso l'uscita prima di accasciarsi in fin di vita davanti al cancello. Sarebbe questa la dinamica dell'omicidio di Michele Placentino, 35enne già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, avvenuto intorno alle 23 di venerdì 2 febbraio. Sul posto sono subito giunti i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, per il quale però non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende poche ore dopo l'omicidio, gli investigatori avrebbero già individuato e trovato l'assassino nel luogo dove si era nascosto. L'uomo nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto al fermo giudiziario. Secondo le prime ricostruzioni dietro l'efferato delitto, non ci sarebbe la regia della criminalità organizzata, piuttosto questioni private legate alla droga. Oltre ai militari e agli uomini della scientifica per i rilevi tecnici del caso, sul posto poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco, il magistrato di turno e il medico legale. A Lecce magistratura e minacce coinvolta in questo caso la giudice Mariano. Maria Teresa Carrozzo. La giudice Francesca Mariano è stata nuovamente presa di mira in una serie di minacce sempre più inquietanti. Dopo le precedenti lettere minatorie con riferimenti al demonio, l'ultima intimidazione ha assunto una forma ancora più macabra, la testa mozzata di un capretto, trafitta da un cortello da macellaio e stata recapitata a casa della magistrata nella notte scorsa. L'animale, chiaramente proveniente da un atto di macellazione, è stato posizionato all'apice delle scale di fronte alla porta di casa, poco dopo la mezzanotte. L'azione è stata compiuta con una precisione spaventosa da parte di Chiagito, che è riuscito a dileguarsi nel buio senza lasciare tracce. La giudice Mariano, già componente della Corte d'Assise di Lecce, è attualmente giudice delle indagini preliminari e al centro di un'escalation di minacce. In passato, sia lei che la PM e Carmen Ruggero hanno richiesto un'ordinanza di custodia cotelare nei confronti di un boss della Sacra Corona Unita, operante nella zona del Brindisino, sospettato di essere coinvolto in questi atti intimidatori. Tuttavia è stato sottolineato che i vertici del gruppo si sono dissociati apertamente da tale minacce. La squadra mobile e la dicoso della questura di Lecce sono intervenute immediatamente dopo la scoperta della testa di Capretto presso l'abitazione del giudice. La magistrata stessa, preoccupata per strani lamenti di gatti nei dintorni, ha aperto la porta di casa trovandosi di fronte all'orrore. La testa dell'animale, insanguinata e trafitta, era appoggiata su un pezzo di cartone con la scritta così. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso, sequestrano il materiale e notando la presenza di telecamere di videosorveglianza della zona, queste potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini e per identificare almeno l'esecutore materiale di questo gesto terrificante. A Sansevero scoperto un laboratorio per la preparazione di eroina, sequestrati 18 kg di stupefacenti. Un vero e proprio laboratorio clandestino per la preparazione di eroina e un totale di 18 kg di sostanze stupefacenti. E' quanto scoperto e sequestrato a Sansevero dai finanzieri del comando provinciale di Foggia e per il quale il detentore, un quarantenne albanese, è stato arrestato nelle scorse ore. Il controllo è iniziato quando una pattuglia in abiti civili è stata superata da un'autovettura che procedeva a forte velocità, con manovre improvvise, senza segnalare le svolte, senza fermarsi agli incroci. Insospettiti dal comportamento del conducente, i finanzieri hanno seguito la vettura fino all'interno del quartiere Luisa Fantasia, dove hanno identificato l'uomo. L'autista, già noto alle forze dell'ordine, si è mostrato agitato e ha riferito circostanze inverosimili circa il suo comportamento. Pertanto i finanzieri decidevano di procedere a un controllo più accurato, rimanendo in suo possesso le chiavi di un'altra autovettura di cui non sapeva fornire spiegazioni e che veniva reperita a breve distanza. I militari procedevano quindi al controllo di quest'ulteriore veicolo, scoprendo nel cofano posteriore un doppio fondo occultato dietro i pannelli laterali e al cui interno venivano rinvenuti 16.500 euro in contanti e panetti di eroina per oltre 6 kg. A quel punto i militari hanno perquisito l'abitazione del fermato, al cui interno veniva rinvenuto in laboratorio con tanto di attrezzature specifiche, un miscelatore, una pressa idraulica da 20 tonnellate, stampi per preparare i panetti, macchine per il sottovuoto, unitamente ad oltre 11 kg di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, morfina, MDMA e sostanze da taglio che venivano sequestrate insieme all'immobile. Intanto a Taranto è saltata la discussione sulla mozione di sfiducia legata al sindaco Rinaldo Melucci. Questo perché è venuto meno il numero legale. Dura reazione delle opposizioni. Le ho spalluto. E' finita così la seduta del Consiglio Comunale di Taranto che avrebbe dovuto discutere la sfiducia nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci. Niente di fatto e polemiche roventi. La maggioranza come previsto ha fatto mancare il numero legale, evitando la conta e il relativo dibattito in aula. Ha raggiunto a Palazzo di Città anche il consigliere Massimo Battista, nonostante un problema di salute, accolto da scroscente applausi. Appena 16 presenti, i 15 della minoranza e la Presidente del Consiglio, Piero Bitetti. Scelta salutata dalle grida di disapprovazione dell'opposizione e della pubblico presente. Immediata la conferenza stampa dei consiglieri sfiducianti. Parole durissime dal centrodestra che denuncia mancanza di democrazia a svolta liberale, dalla PD che non si arrende ai Verdi, dai 5 Stelle che chiedono nuovamente le dimissioni di Melucci. E' assolutamente vergognoso che non ci si sia presentati in aula su una mozione che chiede una verifica politica. Diciamo che oggi ha perso la politica, perché quando c'è una persona a comando di un'amministrazione deve affrontare le opposizioni. La maggioranza non si presenta in aula dimostrando che vuole dialogare con la città attraverso probabilmente dei 6x3 anziché con un libero confronto democratico. La maggioranza senza partiti, presente comunque a Palazzo di Città assieme a Melucci al piano inferiore, delega i consiglieri Fiusco, Pappa e Tribbia al bilancio di giornata. Ed è quest'ultimo ad affermare il passaggio organico in maggioranza anche dei consiglieri di Con, Bitetti e Fornaro. Numeri 18 che metterebbero Melucci al sicuro. Una mozione di sfiducia che non sta né in cielo né in terra con delle motivazioni campate in aria, quindi noi abbiamo voluto dare un messaggio forte che siamo 18, manteniamo la maggioranza e non ci siamo prestati allo show di alcuni consiglieri. Ma in politica tutto può accadere, c'è chi assicura che la partita non è finita. Pagina politica del nostro telegiornale che prosegue con i congressi di Fratelli d'Italia. Partiamo da quello tenutosi a Bari, presente Arianna Meloni, tema di discussione delle elezioni europee ed anche quelle comunali. Antonio Bucci. Ci sono queste amministrative, non sono facili, ma non ci dobbiamo mai scoraggiare. Quindi se ce la mettiamo tutta, io sono convinta che forse la differenza la possiamo fare. Arianna Meloni a presiedere il congresso del BIS di Michele Piccaro sulla tolda di comando del partito metropolitano di Fratelli d'Italia. La responsabile della segreteria politica torna a Bari e apre ufficialmente la corsa alle europee, le stesse per le quali il coordinatore Marcello Gemmato promette tutti i big in campo, senza trascurare però le amministrative. Perché quando raccontano la storia che via di Giorgio Meloni non c'è nessuno, beh, noi sappiamo che non è così. In sala c'è il leghista Fabio Romito. Il ticket tra il carroccio e gli uomini di Giorgio Meloni resta un'ipotesi quotata dal palco e lo stesso Gemmato arriva a dire che la scelta migliore sarebbe quella del collega senatore Filippo Melchiorre, indisponibile, chiamando stavolta in causa apertamente l'azzurro Francesco Paolo Sisto, un modo per stanare gli avversari interni e costringerli a scoprire le carte. Sul nodo del ticket c'è stato un tavolo romano la settimana scorsa, siamo in via di definizione, il candidato penso uscirà nei prossimi giorni. Quindi c'è un clima abbastanza sereno nel centro-destra con una contrapposizione giusta fra le varie forze. Io non so sulla mia candidatura che clima respiro, ma basta dare un'occhiata fuori. Oggi c'è una giornata bellissima, piena di sole, cielo terzo, anche il freddo è un po' più mite. Il congresso di Fratelli d'Italia che ha fatto tappa anche a Taranto, per l'onorevole Iaia ci sono idee chiare, Melucci deve andare a casa, abbiamo già nomi pronti per le comunali, ci dice di più Gianmarco Sanzolino. Il congresso provinciale di Fratelli d'Italia Taranto riconfermato alla presidenza provinciale dell'onorevole Dario Iaia, insomma che momento vive il partito in terra ionica? Un momento assolutamente positivo, io intendo ringraziare tutti gli amici, colleghi parlamentari, consiglieri regionali che hanno voluto riconfermarmi nel ruolo di presidente provinciale, tutti gli iscritti che hanno votato. È un grande partito, un partito presente in tutti i comuni della provincia, con oltre 60 amministratori, presenti in consiglio provinciale, quindi veramente è un partito in grande crescita. Mentre il centro-sinistra Tarantino scricchiola, il centro-destra com'è? È solito? Avreste ad esempio un nome da proporre alle prossime amministrative qui a Taranto, alle prossime comunali? Sì, che il centro-sinistra scricchioli mi sembra un eufemismo. Io credo che il PD oramai sia nel disastro più assoluto, dell'altro giorno il commissariamento di altri circoli, l'espulsione di esponenti importanti del partito, addirittura di Mancarelli, addirittura del vice sindaco della città. Dall'altra parte c'è un centro-destra che dialogo, pronto, con delle figure assolutamente all'altezza per rivestire il ruolo di candidato sindaco della città. La situazione regionale qual è? Credo che stiamo facendo un'opposizione dura. Sono anni che lottiamo contro questo personaggio che si chiama Emiliano, l'ultimo l'ha fatto ieri, dicendo che lui è pronto a dare il credito all'indirizzo dell'indotto, lui è pronto a dare 180 milioni di euro all'imprenditore di Taranto. Ormai si vive in regione di fantasia, da anni. Per me questa amministrazione non deve andare a casa, bisogna andare subito a votare. Noi siamo pronti con un progetto, lo vediamo dalla tanta gente che c'è qui e bisogna cominciare a pensare veramente a Taranto perché Taranto da anni viene comandata di Parisi. Torniamo a parlare di cronaca nel Salento. Un 35enne originario di specchia è morto nel pomeriggio di sabato 3 febbraio in uno schianto tra la moto che guidava e una Fiat Ducato. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 275. Francesco Schiavano. Un altro incidente mortale si registra sulle strade del Salento. Nel pomeriggio di sabato intorno alle 16 circa, un 35enne originario di specchia è morto in seguito all'impatto tra la moto che guidava, una MV Agusta Brutale e un Fiat Ducato. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 275 nel tratto tra Montesano-Salentino e Lucugnano. Il primo a soccorrere il conducente della moto è stato un chirurgo fuori servizio di passaggio. Il medico ha tentato, la rianimazione del 35enne, ma le condizioni sono da subito apparse critiche. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre il conducente del Fiat Ducato, un uomo di Lucugnano, è stato trasferito presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase. In seguito all'incidente, un principio d'incendio si stava sviluppando dai veicoli coinvolti, subito fermato dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno raggiunto la zona insieme ai carabinieri del comando compagnia della stessa città. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. La salma del 35enne, intanto su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita presso l'obitorio del Vito Fazzi di Lecce. Torniamo a Bari. Il segretario di sinistra italiana, Nicola Fratoianni, tesse la tela, confermata l'alleanza coi Verdi, a partire dalle europee, è in vita inoltre all'unità in vista delle elezioni comunali e non si escludono le primarie. L'alleanza verde e sinistra è un progetto politico di prospettiva per le europee, per le amministrative, ovunque. Io conto che in tutti i passaggi elettorali più rilevanti, Bari compresa, sia presente l'alleanza verde e sinistra. Poi esistono situazioni, casi in cui può anche andare diversamente, ma non è un obiettivo né un esito a cui nessuno si rassegna. C'è una scelta politica molto chiara, mia, di Angelo Bonelli e mia, di dare alleanza verde e sinistra la dimensione di un progetto stabile. Sono ormai anni che le sinistre, gli ecologisti si frammentano, cambiano simboli, nomi. Ormai dopo le elezioni politiche del 2022 c'è un soggetto politico, una proposta politica e anche elettorale che vuole avere continuità. Su Bari la discussione è ancora aperta e io penso che su Bari l'obiettivo debba essere vincere le elezioni, battere la destra, farlo nel modo più unitario possibile e anche sul piano dei dispositivi elettorali farlo con la massima continuità col progetto nazionale. Poi discutiamo e vediamo come sempre. E adesso andiamo a Lecce, Toghedoro. Sono ben 22 gli avvocati che sono stati premiati per anzianità e per il lavoro prestato. Iscritti da 65 e 60 e 50 anni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce ha omaggiato anche quest'anno i più esperti che hanno tagliato il traguardo di anzianità di iscrizione. Nel corso della cerimonia che si è svolta nella mattinata di sabato alla presenza del Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, di tutti i Presidenti dell'Ordine delle passate consigliature delle autorità, presso l'Aulamagna della Corte d'Appello di Lecce il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dalle mani del Presidente Antonio Tommaso De Mauro a 22 professionisti del Foro Leccese che hanno onorato con il loro impegno l'Ordine trasmettendo ai più giovani l'orgoglio dell'appartenenza e i principi fondamentali della professione forense, l'Ordine è importante perché dà il segno di comunità, di comunità dell'Avvocatura, di una, non voglio essere paternalistico nell'affermazione, ma di una vera e propria famiglia che si riunisce in un'occasione festosa, dà un segno, come dicevo, di continuità perché proprio unire in questa cerimonia, che è una cerimonia, una festa, un momento di gioia di tutta quanta l'Avvocatura, dà il senso proprio della continuità della professione, della presenza dell'Avvocato all'interno della società. Nella stessa cerimonia inoltre sono stati premiati i giovani Avvocati che si sono distinti per merito nella sessione di esami di abilitazione dell'anno 2021-2022 e che rappresentano il futuro di una professione che deve adattarsi alle molteplici esigenze della società. Le prospettive future sono quelle certamente che vedranno l'Avvocato magari svolgere un ruolo meno agganciato al contenzioso e magari più incentrato su profili di consulenza o di valutazione preventiva di quelle che sono le dinamiche di tipo economico, di tipo affaristico, di tipo sociale che riguardano i cittadini e al tempo stesso un confronto sempre più serrato con la tecnologia che oggi ci pone dinanzi alla necessità di dover affrontare, prima ancora che il problema in diritto, di affrontare il problema telematico. A Taranto intanto si registra una storica sentenza che riguarda l'Egambiente, questo perché la Cassazione ha riconosciuto all'Associazione Ambientale il danno in quanto parte civile nel processo penale per il reato di oggetti pericolosi o cose connesso all'emissione di sostanze. Al centro naturalmente il tema dell'ILVA, il servizio del direttore Gianni Sebastio. Una sentenza destinata a passare alla storia, quella della Cassazione che riconosce in favore di legambiente il danno in quanto parte civile nel processo penale per il reato di getto pericoloso di cose connesso alle emissioni di sostanze varie dall'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto. Il procedimento penale fa riferimento al periodo compreso tra la fine degli anni 90 e la data della prima sentenza, ovvero il 2007. Non si tratta di una condanna per l'inquinamento ambientale, ma per il danno d'immagine subito da legambiente, come hanno spiegato in conferenza stampa l'avvocato dell'Associazione Ambientalista Massimo Moretti, Lunetta Franco, presidente di legambiente Taranto e Daniela Salcedo, direttrice regionale di legambiente Puglia. Avvocato Moretti, una sentenza particolarmente importante, al di là del risarcimento che ammonta 30 mila euro, ma c'è un caso, un precedente, quindi si apre tutto un nuovo scenario sul fronte giudiziario. Beh sì, diciamo che vengono finalmente stabiliti dei criteri che potranno essere utilizzati per le tante costituzioni di parti civili di associazioni ambientaliste che potranno esserci sia in processi che sono in corso qui a Taranto sia altrove, perché si stabiliscono dei paletti in base ai quali un'associazione ambientalista potrà o meno richiedere un danno, in una somma simbolica che è comunque una somma congrua relativamente all'attività svolta dall'associazione. Quindi gli ex proprietari dello stabilimento cirurgico non sono stati condannati per inquinamento ma per aver arrecato un danno d'immagine all'associazione? Un danno d'immagine all'associazione è anche il danno agli associati per non aver potuto raggiungere gli scopi statutari. A Erche la notizia di queste ultime ore sono quelle riguardanti le dimissioni del sindaco. Cristina Cavallo ha sentito per noi gli umori della cittadinanza. Si è dimesso però adesso? Si, si, si dice che si è dimesso. E cosa ne pensa? Eh, per me ha fatto bene. Mi spiace non seguiamo la politica. Il sindaco Nicolì è un ottimo sindaco. Si è dimesso avrà avuto i suoi motivi. Così ai microfoni di Antenna Sud alcuni cittadini di Erche. Alcuni cittadini di Erche si godono l'inconsueti raggi di sole di una giornata di febbraio nella piazza del paese. Si sono risvegliati questa mattina con la notizia delle dimissioni del sindaco Nicolì. Qualcuno commenta timidamente. Ha fatto bene perché lo criticavano e a me se mi criticano, se stavo io e mi criticavano io non l'accettavo. C'è poi chi preferisce non parlare perché è suo amico o conoscente e c'è invece chi continua a difenderlo. Era un bravo sindaco, dice. No, non posso parlare io, ho persone interne. Per me come sindaco era uno dei migliori. Poi c'è chi non vuole dichiarare nulla perché dice di non sapere nulla. No, 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 non sappiamo, vogliamo sapere niente. Non vogliamo sapere niente. In politica proprio niente. E' questo lo spaccato di un paesino di 9.000 abitanti della provincia di Brindisi, Erche, che presto tornerà alle urne per scegliere una nuova guida del paese. Triste pagina di cronaca proveniente da Trani. Questo perché un senza tetto viene preso di mira da ragazzini armati di pietre. Maria Fiorella. Una stanza sul mare all'interno della villa comunale di Trani bersaglio di vandali durante le sere d'inverno. Se lo si dovesse spiegare a parole potrebbe sembrare un posto per ricchi. In realtà si tratta di una sistemazione di fortuna che un senza tetto tranese ha pensato per ripararsi dal freddo di gennaio. Ad alcuni questo non piace e perciò da qualche giorno la baracca in cui l'uomo passa le notti è presa d'assalto da ragazzini che con pietre e calci minacciano l'uomo di andar via. Una pietra mi ha sfiorato il viso, prendono la mira mentre dormo e cercano di colpirmi, è il racconto dell'uomo. Il 65enne senza fissa dimora che ci chiede di non essere ripreso in volto ha occupato un gabbiotto utilizzato per i lavori del cantiere di ripacimento della costa che perdurano da mesi all'interno della villa. Ho paura non di quello che mi hanno fatto finora ma di quello che fanno a chi vive come me, di questo paura ci racconta. Nelle scorse ore girava un video di denuncia su un gruppo social in cui veniva mostrato lo stato di degrado in cui versa il cantiere della villa comunale. Un cantiere che non trova pace e che dovrebbe regalare alla città un nuovo sbocco sul mare con accesso diretto alla spiaggia della zona dell'acquario. Nel degrado però per fortuna qualcuno ha potuto passare qualche notte al caldo nonostante soffra degli stessi problemi di cui soffre il luogo che lo ospita, ai vandali. Talvolta le lungaggini burocratiche permettono al disagio di incunearsi e trovare riparo, dal freddo sì, purtroppo non dalla cattiveria. Il 4 febbraio del 2024, quindi praticamente 20 anni fa, nasceva la nota piattaforma Facebook. Da allora è cambiato il modo di comunicare e di interagire. Cosa ne pensano adesso le persone? Le abbiamo sentite. Mi sono iscritto quando praticamente era nato nel 2004, circa 2005, quindi in Italia non era ancora famoso. finché non sono stato hackerato qualche anno fa lo usavo abbastanza volentieri. Il 4 febbraio 2004 uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici creò The Facebook, il libro delle facce. Questo evento ha segnato una rivoluzione nella società, influenzando concetti come privacy, amicizia, informazione, politica e lavoro e dando origine a nuove professioni orientate ai like. Io lo uso da una decina di anni, però principalmente non come social, inteso rapporti umani virtuali, ma soprattutto per il lavoro. Mi sono iscritto per guardare cosa facevano i miei figli. Lo utilizzo pochissimo, è più che altro per informazioni, informarmi sull'attualità. Non mi è mai piaciuto come social, quindi non l'ho mai avuto. Molti dei suoi utenti, i millennials, sono ormai signori di mezza età, mentre i più giovani lo percepiscono come il social dei boomer e non ne vogliono neanche parlare. Una piattaforma digitale che racconta la società dell'ultimo ventennio, che le fake news viaggiano molto più veloci dalla verità, l'odio ottiene più like dei buoni sentimenti e soprattutto che i social alimentano estremismi e sono un pericolo per la sicurezza. Dall'avvento di Facebook abbiamo cambiato le nostre abitudini in merito alla privacy, cioè noi diamo il consenso a nostri dati personali anche senza volerlo. Dipende come si usa il social. Se si utilizza tutto in maniera corretta non credo ci siano problemi. Se i social venissero utilizzati per una divulgazione oggettiva e giusta per sfruttare le conoscenze sarebbe ottimo, purtroppo vengono utilizzati anche per altri. La cosa più brutta sono l'iscrizione dei fake. Fa vedere una visione che non è vera, per cui è molto una cosa finta. Intanto a Bari arriva la quindicesima edizione del B-Fest tra tante novità e anteprime internazionali. Ai nostri microfoni fa il punto della situazione il direttore e l'ideatore Felice Laudadio. Anche nel 2024 è tempo di B-Fest a Bari. La quindicesima edizione si svolgerà dal 16 al 23 marzo prossimi, finanziata e promossa da Puglia Promozione e prodotta da Puglia Film Commission. Oltre 130 gli eventi in programma, contributo a Marco Bellocchio, 18 film stranieri ed anteprime internazionali. Non mancherà inoltre l'Italia Film Fest, che si suddividerà tra Doc, Nuovo Cinema Italiano e The Best of the Year. Il direttore e ideatore Felice Laudadio si sofferma però anche sul futuro del festival e sul rapporto con la regione Puglia. Sarà il presidente Emiliano che ha per fortuna accolto la pressione che da tutte le parti veniva perché ci fosse ancora un B-Fest. Il B-Fest è una delle tre, quattro manifestazioni più importanti in Italia. Dunque, quando finalmente questa delibera è arrivata, immagino le ragioni anche di carattere economico, questo Paese sta andando non benissimo, questa possibilità futura dipende da quel progetto che si ha di creare una fondazione di cui si parla da anni. Una volta che ci sarà la fondazione, forse le cose saranno, come dire, più automaticamente portate. D'altra parte, sono le fondazioni che gestiscono i festival più importanti in Italia. La Fondazione Biennale di Venezia, la Fondazione Cinema di Roma, la Fondazione Museo del Cinema di Torino, che sono gli altri tre grandi festival insieme a Bari. Bari ha bisogno assolutamente di avere una struttura come la Fondazione di cui si parla per avere certezze di programmazione. I festival richiedono un anno di lavoro. È fatto di tante competenze. Noi abbiamo una piccola squadra di forti competenze che aiutano a fare un festival come quello che ho presentato oggi. A Specchia, nel Salento intanto, torna l'appuntamento coeriti della Candelora. La comunità di Specchia, anche quest'anno, come avviene ormai da secoli, ha celebrato nella giornata di venerdì la festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, nota anche con il nome di Candelora una ricorrenza particolarmente sentita dai cittadini che la rivivono attraverso significativi segni ereditati dall'antica tradizione. Il primo, la composizione di statue in cartapesta dei primi anni del Novecento, conservata nella chiesa matrice e composta da San Simeone, San Giuseppe, la Vergine Maria e Gesù Bambino, raffigurazione unica in tutta la diocesi. Nella mattinata, come vuole la tradizione, si è svolta alla fiera, che rappresenta una delle più antiche e tipiche manifestazioni salentine e richiama numerosi visitatori e venditori, tra i quali anche i contadini locali che continuano a vendere le pestanachie, caratteristiche carote dolci coltivate con pazienza nel corso dell'anno. La festa poi si è conclusa in serata con la Santa Messa e la benedizione delle candele, conservate con cura devota dagli specchiesi che un tempo le accendevano in caso di necessità per scongiurare il pericolo dei temporali o per placare l'ira divina durante le tempeste. Da secoli si svolge questa tradizionale fiera che non abbiamo la conoscenza dell'origine, ma affonda le sue radici nei secoli. Il significato di questa festa ci richiama il Natale del Signore, ci richiama ad essere figli della luce, con le opere della luce, per rifugire ancora una volta dalle opere delle tenebre. A Foggia nelle scorse ore sono stati presentati gli esiti della complessa e preziosa opera di ristrutturazione dell'Auditorium Santa Chiara e dei suoi apogei affidata in gestione dal Comune alla Fondazione Apulia Felix. Esempio di connubio virtuoso tra pubblico e privato di cui beneficia la comunità di Foggia e il suo diritto all'arte e alla cultura, e quanto rappresenta il prezioso e complesso lavoro di ristrutturazione dell'Auditorium Santa Chiara e dei suoi matronei affidata in gestione dal Comune alla Fondazione Apulia Felix e che si è concretizzato in un ampliamento della sua capienza la sistemazione degli ambienti ipogei e la rifunzionalizzazione di alcuni ambienti degradati che saranno adibiti ad aule didattiche. I lavori e le attività presentate nelle scorse ore in una conferenza stampa sono parte di Arpin Arts per la rigenerazione territoriale e sociale. Il progetto della Fondazione, che è unico a Foggia e tra pochissimi in Puglia, ha vinto il bando radici e ali della Regione Puglia. Da quest'ultima è arrivato un finanziamento di oltre 1 milione e 100 mila euro integrato da un generosissimo contributo privato di soci della Fondazione per altri 300 mila euro e più. La peculiarità di questo progetto promosso da Apulia Felix è quello anche di coinvolgere questo quartiere, il quartiere di Via Arpi, la popolazione che ci vive in un percorso di cultura e di interazione in cui c'è il dono del bene più importante che abbiamo, che è quello del tempo e quindi la crescita culturale attraverso l'adesione di una comunità ad un progetto che ha un contributo pubblico della Regione Puglia, un contributo privato e che vede la partecipazione dei cittadini foggiani. Questo luogo diventa molto più ricco di opportunità, perché non sarà più soltanto un auditorium per attività culturali, ma sarà di fatto un luogo di formazione, di scuola, sarà un luogo in cui sarà possibile anche a breve avere un'idea della storia di Foggia, della storia del centro storico di Foggia attraverso un prodotto multimediale che potrà essere fruito proprio qui nell'auditorium. Poi ci sarà appunto una scuola di musica, metteremo su un'orchestra giovanile e ci saranno poi tante altre attività che potranno essere proposte da altri, non solo tanto dalla Fondazione Apulia Felix. Il Tg Interregionale termina qui, grazie per averci seguito. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.